470 chilometri, tre province attraversate, l'Aquila, Tarama e Pescara e ben 65 località. È il tracciato di equiturismo più lungo in Europa e l'Ippovia del Gran Sasso d'Italia appena inaugurata a Capestrano, con relativo progetto turistico. L'infrastruttura è stata realizzata dal Parco Gran Sasso Monti della Laga 20 anni fa. Oggi, grazie all'attività di ricerca portata avanti da una start-up con il progetto Nexum-Ecum, con un accordo di programma con il Parco e le federazioni sport equestre e turisme equestre, è stato oggetto di ripristi e ampliamento dei tracciati, con un sistema integrato di offerta dei servizi di equiturismo. Il sistema garantisce un'offerta di 20 trekking giornalieri diversi per una percorrenza media di 25-30 chilometri al giorno. Attualmente è garantito una percorribilità dell'80% delle tratte, con servizi di accompagnamento con cavallo proprio a noleggio, grazie agli struttori FISE e FITE e anche alloggi e strutture già presenti sul territorio. Lo sviluppo finale del progetto prevede di arrivare a circa 65 punti di sosta specifici, con recupero di ruderi lungo il tracciato. Siamo a un punto decisivo. Per la prima volta caliamo la progettualità, che pure era di significato e che ha avuto un sviluppo assolutamente importante, decisivo anzi per arrivare all'odierna il giornata, all'apertura del primo il tratto. Quindi diciamo che il si passa dalla teoria alla strattezza, alla concretezza di un'azione sul territorio. Lo si fa dove? Lo si fa a Capestrano, in un luogo simbolico, simbolico per tutta l'Italia centrale, per tutti gli appennini e in particolare anche per il nostro parco. Già ci sono tante richieste in tal senso e ci sono già pacchetti turistici predisposti. Le possibilità sono tante, la vacanza a cavallo, scuola di equitazione per bambini e adulti, ippovia in carrozza per persone con disabilità, riabilitazione equestre, ipoterapia come vacanza rigenerante. Ora come obiettivo c'è anche quello di rilasciare un'applicazione certificata per affrontare i percorsi in sicurezza e nel rispetto del territorio del parco e investire sulla viabilità e nel potenziamento delle strutture ricettive per aumentare capacità di offerta, un modello di sviluppo importante insomma per le aree interne. Finalmente è un'iniziativa vera volta allo sviluppo del territorio, un turismo che sia rispettoso dell'ambiente, della natura circostante e un turismo che porti un valore aggiunto a tutto il nostro territorio, al nostro bellissimo territorio che resta ad oggi ancora purtroppo inespresso e che speriamo che con questa iniziativa davvero riesca a emergere perché è un territorio che merita, perché è un territorio fantastico. In Abruzzo sì, il turismo equestre c'è ma è poco sviluppato e quindi grazie a questa iniziativa speriamo che possa trarre insomma il massimo beneficio e possa svilupparsi ancora di più ulteriormente.